ed eccoci qua di nuovo buongiorno e buon pomeriggio a tutti voi usciti alle 14 30 sono le 14 47 i dati sui prezzi alla produzione io e 6 di nuovo in aumento quindi un dato un po infrattivo questo è il dax ha sbandato un po anche l'europa ma se vado a vedere sp 500 ha sbandato anche l'america con un hammer che non è in una posizione buona secondo me per giustificarlo rendere un hammer valido ma comunque con una fiammata a ribasso dei prezzi abbastanza importante che non coinvolge tanto sp che è sulla parità ma che lascia scusate un po appesantito il nasdaq già claudicante dopo la botta di ieri io francamente non mi aspetto dal nasdaq un recupero incredibile anche se è un'aspettativa che potrebbe essere smentita perché in un mercato pazzo può succedere di tutto sono usciti come dati positivi i numeri di jp morgan quegli altri perché oggi escono altre due trimestrali abbastanza importanti che sono ben come new york va bene ma wells fargo e city group e il settore bancario servirà un po soprattutto wells fargo andrà vista con attenzione a darci il polso della situazione jp morgan ha fatto relativamente buoni utili dall'attività bancaria tradizionale e invece ha guadagnato veramente molto meglio delle attese la parte investment banking gestire il denaro fare trading proprietario e lavorare le masse dei risparmiatori continua a questi livelli essere un ottimo business e considerato che le trimestrali vanno al 30 giugno e visto che mercati primo aprile o di correzione al 30 giugno sono andati in positivo è ovvio che le commissioni soprattutto quelle che vanno a impattare sul capitale sulle masse amministrate crescendo quest'ultimo quest'ultime non possono essere decadenti per la giornata di oggi se dax nasdaq ritorna fino a 20.600 è già buono per l'sp 500 ostacolo qua 5650 e non sarebbe una brutta chiusura settimanale credetemi dow jones che comunque ha valicato 40.000 tiene ancora botta benissimo e la tiene ancora meglio e consolida queste sono proprio ricopertura queste sono salite non per il dato inflattivo che anzi avrebbe dovuto deprimere russell queste sono classiche salite da ricopertura ovvero il molto scoperto che c'è sul russell probabilmente continuerà con acquisti obbligati visto chiusura la settimana quindi margin call e tutto ciò che ne consegue situazione presidenziale in bara onda quindi chiaramente chi è in difficoltà sul russell dovrà chiudersi lo farà lo vediamo già oggi approfittando dei numeri positivi delle banche forse di una stabilità dell'indice e di conseguenza russell continuerà a essere un po in fotocopia quello che abbiamo visto ieri e forse più in piccolo almeno in apertura ma non ci metto la mano sul fuoco meglio se riflette sarà tessa sorte più piccolo meno brutale per quanto riguarda il nasda che vado un po vedere anche le preaperture dell'america perché sui titoli prima ho visto qualche cosa di particolare non c'è un gran rosso c'è a t e t che tira un po maluccio wells fargo male quindi io non li possiedo ma probabilmente sono usciti i dati non ce li ho perché altrimenti mi arriverebbero ma può essere un limite mio tesla di nuovo debole una tesla che prima della giornata ieri era andata a 2 70 l'abbiamo a 2 e 36 è quasi un meno 10 per cento ai ragazzi non è non è veramente non è veramente poco e quindi direi che oggi bisogna stare piuttosto attentini il resto del comparto tech è più o meno sulla parità o poche più anzi vediamo se c'era anche city group molto buona quindi sono usciti dati di city group e di west fargo e non li ho west fargo non vorrei che fossero dati brutti visto che è molto impegnata sui prestiti e più tradizionale rispetto alle grandi corporation bank of the mercy group e direi di fare attenzione west fargo perché non vorrei che fosse il primo campanello di allarme sulle insolvenze dei sistemi il resto del mercato c'è qualche recupero sul nuovo nordisk quindi in generale un po sui settori che hanno sofferto alibaba ma non c'è dei rossi particolari tolto meta che comunque non sta brillando tantissimo oltre il tech oggi se non arriva invidia a reggere un po' tutto e se sto guardando invidia quello che è venuto fino a almeno 0 50 niente di particolare direi un mercato che consoliderà ma non credo che pesantemente invertirà quello che di negativo abbiamo visto ieri piccola nota tecnica qui un gancio sull'europa dax attenzione perché ha comunque sentito i dati dell'america al al minimo che corrisponde il grosso modo con il rischio direi a 18 6 e 50 sul nostro fuzzimib attenzione all'area 34 e 500 34 4 dovrebbe tenere visto che comunque un po di spinta c'è eurostox attenzione a 5.000 secco eurostox bancario decoroso volatilità di nuovo in calo a casa europa almeno quella per quanto riguarda il nostro derivato della volatilità che è il vstox ma direi che non ci sono altre cose da segnalare ma 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 guardiamo i bond oggi stanno recuperando bene ma comunque c'è un segno meno rispetto alle chiusure ufficiali niente che non sia comunque recuperabile ragazzi e ragazze per cui questo aspetto non sono fiducioso ma guardo un mercato in stabilizzazione di certo questa salita dei bond con un dato infrattivo sui prezzi della produzione è visto ciò che è avvenuto ieri anche un po un flight to quality oltre che chiaramente il fatto che i bond si giovano di una fed che al 90 per cento cala i tassi e sono aperte le scommesse se il calo dei tassi che fa la fed quest'anno sarà di due oppure di tre stamattina l'amico berlinzani su classe diceva due tre è da scordarselo non ne sarei così sicuro ma può darsi che io in quel senso sia un pochino troppo ottimista o pessimista secondo dei punti di vista auguro a tutti voi un buonissimo come ho detto